Ci troviamo in Viale Venezia, in piena zona mare di Pesaro e l'albero che vedete qui al mio fianco è una delle 53 robigne che da lunedì 22 novembre verranno abbattute su questa via. Una grande operazione di rigenerazione ambientale scelta attraverso l'operazione di Aspes S.p.A. in concordato con il quartiere e anche il parere positivo di associazioni ambientaliste verranno abbattute 53 robigne a fine vita e anche ritenute pericolose soprattutto durante i periodi di forte e maltempo al loro posto verranno ripiantumate altre 69 piante di diverse essenze. Sono arrivate veramente a fine ciclo vitale, negli ultimi due anni abbiamo dovuto fare una ventina di interventi proprio per la messa in sicurezza perché ad ogni fortunale importante che stanno aumentando dietro il cambiamento climatico abbiamo avuto piante che sono cadute, rami molto grossi che sono sbrancati, quindi mettendo proprio in pericolo le persone e le cose. Quindi prima di tutto la sicurezza e in secondo luogo anche il livello ambientale perché faremo come ho detto una ripiantumazione, noi andremo in maniera gradale da qui alla primavera alla sostituzione di quello come dicevo prima che è il patrimonio, quindi abbattimento, carottatura e successiva piantumazione di essenze che non saranno tutte uguali ma che verranno scelte sulla base morfologica della via, quindi se c'è un palazzo potrebbe esserci una pianta più grande, un'essenza più grande, se c'è la casa schiera potrebbe essere una pianta più piccola, ma così via dicendo proprio per cercare di far vivere e convivere al meglio la residenza con l'esigenza ambientale e anche con la bellezza che un viale alberato può avere. E dunque alberi che vengono abbattuti ma anche alberi che vengono ripiantati. Da viale Venezia a via Paterni dove ci troviamo ora abbiamo un esempio di rigenerazione di piante dopo un'analoga operazione effettuata alcuni anni fa, operazione che come detto ha l'avvallo delle associazioni ambientaliste del territorio. Essere ambientaliste e naturaliste non vuol dire avere gli occhi chiusi, ci sono delle esigenze chiaramente soprattutto nelle alberature stradali cittadine, ci sono delle esigenze ovviamente di fine vita, di pericolosità, di fine vita, di piante un po' vecchie eccetera, e di pericolosità in cui ovviamente siamo sempre stati a favore di un dialogo e questi parametri non possono essere non accettati. Gli alberi grandi nei nostri viali hanno funzioni importanti in cui la gente, anche gli amministratori spesso quasi si dimenticano. Oggi in particolare c'è il problema della riduzione della CO2, non è che le cose le debbano fare soltanto i capi di Stato, ma i problemi della riduzione di CO2 attraverso gli alberi che è lo strumento più efficiente. Dobbiamo pensarci anche nelle città, per esempio, gli alberi grandi, di grandi dimensioni, sono quelli che ovviamente ne assorbono di più. Tra l'altro nelle strade gli alberi di grandi dimensioni, gli alberi comunque, con le foglie riducono l'inquinamento del particolato, per esempio perché lo assorbono le cose, oltre a essere. E danno ombra, danno ombra oggi con i cambiamenti climatici, con l'incremento delle temperature, non è più uno scherzo il danno ombra. Nelle città c'è una bolla di calore, studiata, misurata e tutto il resto, per tanto cemento, asfalto, per cui le temperature all'interno delle città, spesso in estate, sono di 4-5 gradi superiori alla temperatura dell'area circostante. 4-5 gradi in più vuol dire tenere accesi i condizionatori, moltissimo, spendere un sacco di energia, stare peggio, perché non è una cosa confortevole, ma questo vuol dire gestire bene la città anche attraverso il verde.